Immagina se i tuoi dipendenti potessero richiedere le ferie in pochi secondi e tu non debba far altro che decidere se approvare o rifiutare le richieste. Qualcuno del tuo team ha bisogno di richiedere un giorno di ferie. Tutto quello che devono fare è andare nella sezione assenze e richiedere i giorni e le ore di cui hanno bisogno. Inoltre, potranno visualizzare i giorni festivi sul calendario, i giorni totali di ferie che possono richiedere durante l'anno e quanti ne hanno utilizzati. Tutto nella stessa interfaccia. Quando il dipendente richiede un congedo, può anche selezionare il motivo per cui sarà assente. E non solo! Potranno vedere quanti colleghi saranno in pausa nello stesso periodo in modo da scegliere con consapevolezza quando assentarsi. Tutte le richieste saranno salvate su Factorial, ma ti saranno anche inviate via e-mail automaticamente. Tutto quello che dovrai fare sarà rifiutarle o approvarle. Facile, no? Inoltre, l'intera azienda avrà una visione globale delle assenze che potrà essere filtrata per team e ti permetterà di avere una panoramica sui dipendenti che lavorano in sede o da remoto. E come manager, cos'altro puoi fare? Beh, puoi personalizzare le politiche di assenza e i contatori in base a ciò che è più adatto per la tua azienda. Ad esempio, puoi creare politiche diverse in base al tipo di contratto, città o ufficio. Inoltre, potrai configurare i tipi di assenza che i dipendenti possono richiedere, decidere se necessitano di approvazione e su quale contatore si appoggiano. Per terminare, dovrai solo aggiungere i dipendenti che decideri assegnare a ciascuna politica. È veramente così facile? Ci puoi scommettere! La gestione delle assenze su Factorial è facile e semplificherà il modo in cui coordinerai il tuo personale.